Lei, anche lei. Però, sì, è vero fino a un certo punto, nel senso che, perché c'è Equitalia? Perché è l'esattore, cioè Equitalia svolge la funzione evidentemente richiesta in qualsiasi stato moderno per poter andare a recuperare i soldi dell'imposizione fiscale che non vengono spontaneamente pagati ai cittadini, questo è il concetto. Prima di Equitalia c'erano comunque altre entità, c'era la Gest Line, c'erano altri concessionari sparsi su tutto il territorio nazionale, quindi la funzione, non dobbiamo confondere il problema dell'odio che ci può suscitare una istituzione con la necessità o meno che essa esista. C'è del tutto ovvio che chiunque riceve una cartella non sorride, non stappa una bottiglia di champagne. Se però cerchiamo di fare un ragionamento un po' più ampio, ci rendiamo conto che, al di là del modo brutale, è stato giustamente denunciato, io credo che l'imprenditore che è adesso in studio abbia dato veramente una lezione straordinaria. Io dico, è quando quelle rare volte Davide vince contro Golia, è bellissimo, è un segno di speranza per il futuro. Nello stesso tempo dobbiamo renderci conto che quel tipo di attività, se non la svolgerà Equitalia, la chiameranno in un altro modo, la svolgerà un altro ente. Piuttosto segnalo che c'è una sentenza molto interessante per chi è interessato al tema, appassionato, sulla questione del cosiddetto agio. Si dice di quello che Equitalia chiede come corrispettivo dell'attività che svolge. Ebbene, c'è una sentenza che è la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, la numero 54 54 29 del 2015, che ha stabilito un principio interessante richiamandosi anche a normative europee e dicendo che per il tipo di attività che voi prestate, cari esattori, non potete pretendere di applicare le percentuali assurde e vergognose che in realtà applicate. Perché? Perché non è giustificato dalla mole di lavoro che fate. È del tutto ovvio anche in questo caso che un esattore non lavora per nulla, deve pagare evidentemente i dipendenti, tutti i funzionari, tutti i dirigenti, tutti coloro che operano per lui. È altrettanto ovvio, inaccettabile, come dimostra la storia del nostro amico, che non si può arrivare a rendere questo sistema che consente Equitalia di guadagnare il giusto qualcosa che poi si traduce in un'avvessazione nei confronti del cittadino. Cioè un conto è il giusto guadagno, un conto è lo spropositato guadagno. Perché lo spropositato guadagno diventa una tassazione ulteriore. Questo è il dramma dell'esattoria in Italia, che le persone non vengono colpite una volta con la tassazione, vengono colpite due volte. Cioè con l'esazione della tassazione e questo evidentemente è inaccettabile. A maggior ragione, dito, in un sistema come il nostro, non dimentichiamocelo mai, dove da più di vent'anni lo Stato italiano, l'abbiamo scritto in crisico, è in avanzo primario di bilancio, più o meno. Cioè le tasse che incamerano sono abbondantemente sufficienti a pagare le spese. Allora il primo telespettatore che chiama dirà, e allora perché il debito pubblico aumenta? Il debito pubblico aumenta per il perverso meccanismo secondo cui lo Stato italiano che è sovrano, quando ha bisogno di moneta, va a chiederle in prestito ai mercati. I mercati oggi, le grandi borse, le grandi corporation transnazionali che gestiscono i grandi capitali, sono letteralmente gli usurai che tengono per la collottola lo Stato. E qui chiudo il ragionamento e andiamo ad Ama, perché serve oggi come il pane una riforma costituzionale come quella che hanno licenziato e su cui vogliono che noi votiamo sì? Perché renderà la catena di comando perfettamente lineare e funzionante. I mercati daranno gli ordini, le istituzioni di Bruxelles li trasformeranno in leggi apparentemente democratiche, zelanti burocrati faranno in modo che queste leggi arrivino sul tavolo del nostro Senato, il nostro Senato della sedicente fu repubblica insieme alla Camera dei Deputati le approverà e noi subiremo. Questa è la filiera. Telefonata, intanto vi faccio vedere anche...